Ieri sera ha debuttato al Teatro Giacosa di Aosta Ballad to Shakespeare, un nuovo spettacolo teatrale proposto dalla compagnia Palino Die che questa sera replica alle 21.30. Vediamo il servizio. Lo faccio io, perché tu sei Romeo. Hai troppe cose da fare per ricordarti qual è il tuo dovere qui dentro. Ecco qui, passivo, aggressivo, come ricordato. Ballad to Shakespeare è un viaggio tra le passioni umane, passioni senza tempo che il drammaturgo secoli fa aveva tracciato con estrema precisione. Passioni che vivono nella storia dei suoi personaggi, sempre moderni, qui rievocati da ricordi. In scena una storia d'amore cantata con le parole di Shakespeare e i profili di dieci personaggi celebri nati dalla penna del poeta. Amleto, Romeo, Titania, vivono in un luna park e di spettacolo in spettacolo sono intrappolati nei loro ruoli e obbligati a ripetere all'infinito la loro parte finché il pubblico non arrivi a capirli. Quanto avete bevuto la scorsa notte? Quanto basta per festeggiare il complimento della 9573esima replica? Il pubblico? Era dispiaciuto dopo la tua uscita di scena. È il backstage del Luna Park che si svela e con lui le dinamiche tra i personaggi che lo abitano. Ci vendicheremo? Ma sì, sì, come ci vendicheremo? Libereremo i leoni durante lo spettacolo. Ancora? Ruggiranno e correranno, tu allora entrerai da un cerchio di fuoco. Possono già i brividi? A 400 anni dalla morte di Shakespeare, Ballad to Shakespeare è un tributo. Sul palco del teatro Giacosa si assiste alla storia che si ripete ma anche a un debutto. il debutto per questa nuova produzione della compagnia teatrale Palino Die.